Di stabilità in Commissione Bilancio alla Camera, i deputati azzurri votano un emendamento dei deputati 5 Stelle, comunque respinto, che tagliava investimenti al settore aeronautico. Subito si parla di un asse fra le due forze all'opposizione, ma i grillini non ci stanno. Non significa che se un partito o un movimento vota l'emendamento di un altro partito ci sia un asse o un'alleanza. Perché questo, ve lo dico, significa fare un po' di disinformazione, perché la gente che sente questa notizia percepisce che c'è un asse tra il Movimento 5 Stelle e Forza Italia, ma non c'è nessun asse.